Ci troviamo all'interno del castello di Monteverde dove il principe Alberto II di Monaco ha incontrato le istituzioni e la cittadinanza in questa giornata storica cominciata stamane intorno alle 10 e mezza quando è arrivato proprio all'ingresso del comune di Monteverde. Insieme al sindaco di Monteverde Antonio Vella, agli studenti dell'Istituto Omnicomprensiva Quilonia Lacedonia Monteverde Francesco De Santis, ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine ha scoperto la targa di sito storico Grimaldi di Monaco. Insieme al governatore De Luca e altri esponenti politici e amministrativi, il principe Alberto ha raggiunto il castello di Monteverde dove è stato accolto dalla banda musicale, sempre di giovani studenti, per poi salire nella sala principale del castello e incontrare le istituzioni, parlare dell'importanza del riconoscimento del sito storico dei Grimaldi di Monaco che va a suggellare un rapporto antico.